Cari pellegrini, leggo da un sondaggio di cui parla il quotidiano Il Giornale che ormai agli italiani non interessa più la morale cattolica o meglio non seguono più la morale cattolica. In realtà si tratta di notizie che ovviamente sono abbastanza ai noi risapute. Addirittura la percentuale per quanto riguarda l'interesse nei confronti della morale cattolica tra i giovanissimi scende alla 5%, ripeto 5%. Ma soprattutto c'è una cosa che fa pensare che il 50% dei praticanti, quindi attenzione, non il 50% di coloro i quali si dicono cattolici, ma il 50% dei praticanti, c'è di coloro che vanno solitamente a messa nei giorni di precetto, ebbene il 50% di questi praticanti afferma che l'insegnamento della Chiesa è sì utile, ma non essenziale. E io vorrei soffermarmi soprattutto su questo. Cioè l'insegnamento della Chiesa è utile, ma non sarebbe essenziale, cioè non sarebbe fondamentale. Ora vedete, c'è un'espressione di Gesù che qualche volta abbiamo già evocato, che dice che potrebbe sembrare un po' enigmatica, un po' paradossale, forse anche un po' contraddittoria, che va capita bene. Dice Gesù che a chi ha sarà dato molto di più e a chi non ha sarà tolto anche quel poco che ha. Torno a ripetere, sembra un'espressione che non abbia senso, o perlomeno che vada un po' a stridere con una certa giustizia distributiva, perché colui che ha deve avere ancora di più e colui che non ha deve perdere anche quel poco che ha. Ma evidentemente Gesù non si riferisce a qualche cosa di materiale, si riferisce alla fede, cioè alla capacità di abbandonarsi totalmente a Dio, di conformare la propria volontà con la volontà di Dio. Meglio di sostituire il proprio criterio di giudizio con il criterio di giudizio di Dio. Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, dice San Paolo nella lettera ai Galati. Se non c'è questo, in realtà la fede inevitabilmente si spegnerà, inevitabilmente si perderà. Vedete, è quello che è accaduto e sta ai noi accadendo negli ultimi tempi per quanto riguarda la vita di noi cattolici e per quanto riguarda la stessa vita della Chiesa. Certo, esiste un principio fondamentale da cui non dobbiamo assolutamente derogare, perché è verità di fede, cioè il principio della indefettibilità della Chiesa. Quindi, di fatto, la Chiesa non finirà fino alla parousia, fino alla fine dei tempi, quindi alla seconda venuta di Nostro Signore Gesù Cristo. non solo la Chiesa non finirà, ma non si spegnerà nemmeno totalmente la fede. È evidente questo. Però c'è quell'espressione di Nostro Signore che dice quando il Fio dell'uomo tornerà sulla terra, troverà la fede sulla terra. Evidentemente qui Gesù fa un riferimento, non al fatto che si spegnerà totalmente la fede, ma al fatto che forse non saranno molti, ma saranno pochi a mantenere, a conservare la luce, la luce della fede, la fiamma, la fiamma della fede. Allora dicevo, negli ultimi tempi si è realizzato quello che si è realizzato. Vedete, si pensava che adattandosi al mondo, conformandosi al mondo, cercando di venire incontro al mondo, cercando di offrire anche una morale cattolica, che fosse un po' pretaportè, cioè una morale cattolica un po' che potesse essere comoda, che potesse essere quanto più comoda possibile, si sarebbero avuti dei risultati migliori. Si parlava addirittura di primavera, per quanto riguarda la Chiesa, e i risultati sono questi. I risultati sono questi perché tutto quello che c'è stato, c'è stato come frutto di un ragionamento tipicamente umano, come frutto di un'applicazione di leggi puramente di marketing umane, tecniche, per quanto riguarda l'annuncio della fede. Quando l'annuncio della fede deve essere fatto come Cristo comanda. E l'annuncio della fede non può essere assolutamente edulcorato, non può essere assolutamente manipolato. La fede va sempre presentata nella sua integrità, l'annuncio, la verità cattolica, va presentata nella sua integrità. E solamente quando la verità cattolica viene presentata nella sua integrità, allora sì, allora sì che riesce a fruttificare, riesce a affascinare. Vedete qui, io non sto facendo riferimento alla questione della misericordia, perché della misericordia abbiamo tutti quanti bisogno. Nessuno può permettersi di dire di non aver bisogno di un'infinita misericordia di Dio, di non aver bisogno di un'infinita pazienza di Dio. E quindi è giusto, è giusto sottolineare il fatto che offrire al peccatore, anche al peccatore più incallito, la speranza della conversione e quindi l'invito alla conversione per poter assaporare, gustare, beneficiare della misericordia di Dio. Questo è enormemente giusto. Quello che però non è giusto è far perdere il senso del peccato. Questo non ce lo possiamo permettere. Non ce lo possiamo permettere perché non possiamo noi saperne più di Dio. Vedete, un'altra grande questione che si è verificata negli ultimi tempi e questi sono i frutti, che abbiamo preteso presentarci più buoni di Dio. Più buoni di Dio. Pensare di essere più buoni di Dio, di essere più misericordiosi di Dio. Quasi quasi facendo capire che la legge di Dio è quasi impossibile da praticarsi. Allora vedi, te lo dico io come fare. Perché quasi quasi io sono più bravo, buono e misericordioso di Dio. E questi sono i frutti. L'uomo non ha bisogno dell'uomo. L'uomo ha bisogno di Dio. E quando noi tentiamo di presentare un Dio che non è veramente Dio, ma è un Dio a nostro uso e consumo, una sorta di Cristo di plastica, di Cristo pupazzo, che possa adattarsi a quelle che sono le nostre esigenze, i risultati sono questi. E addirittura si arriva ad affermare che questa è l'offesa più grande, è il segno della sconfitta più grande, non che il cristianesimo è inutile. Perché paradossalmente un'affermazione di avversari che dicessero il cristianesimo è totalmente inutile, forse potrebbe dare maggiore speranza. Ma qui si dice il cristianesimo è utile, è utile il cristianesimo, ma non è fondamentale. E questa è l'offesa più grande che si può fare al nostro Signore Gesù Cristo. Come dire, la sua crocifissione è stata utile, ma non è stata fondamentale. Bene, cari pellegrini, terminiamo qui, ci diamo appuntamento al prossimo editoriale e vi saluto caramente ricordandovi che Dio è verità, bontà e bellezza.